Allora, lavoriamo. Presa a polso, mano opposta. Numero uno. Presa, tingo, giro, afferro, tiro. Si lavora però maggiormente di forza. Ricordatevi sempre di bloccare bene la mano, perché altrimenti lui se ne va, invece voglio tenerlo. Uno, due. Bene. Uno, due. Queste, è fondamentale però farle a destra e sinistra, molto più di le altre, perché la presa è sua. Quindi è lui che decide che parte prende. Ok? Va bella. Stesso principio, blocco, movimento circolare, quando arriva a metà si ferma e si taglia verso il basso. Con il taglio della mano sul corso, eh? Quindi non devo aprire. Blocco, ma devo verso di lui. E anche questa sulla sinistra è più difficile sicuramente, perché è molto più... Ok? Prendete sempre di riferimento la cintura. Uno, da qui, scendo e tiro verso il nodo della cintura, schiaccio qua, ok? Ma ci metto anche... le spalle, il peso. Ok? No. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.